Sabato 12 agosto. Sabato della diciottesima settimana delle ferie del tempo ordinario. Calendario romano. Libro del Deuteronomio 6,4 trattino 13. Mosè parlò al popolo dicendo, Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. E li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate. Alle case piene di ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli oliveti che tu non hai piantati, quando avrai mangiato e ti sarai saziato. Guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Salmi 18, 17, 2-3a.3bc, 4.47.51ab Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo. Mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore, degno di lote. E sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Si è esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie. Si mostra fedele al suo consacrato. Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 17,14-20. In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo. Che, gettatosi in ginocchio, gli disse, Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua. L'ho già portato dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo. E Gesù rispose, O generazione incredula e perversa. Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui. E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero, perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli rispose, Per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte, spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Santa Caterina da Siena, F1347-1380 Terziaria Domenicana, Dottore della Chiesa, Compatrona d'Europa Spostare le montagne per mezzo della Santa Croce Il nostro dolce Salvatore ha detto, se aveste fede, come un granello di senape, potreste dire a questa montagna, spostati, ed essa si sposterebbe. Sì, mio carissimo padre, credo che sia la verità, poiché, quando l'anima fedele mette tutta la sua fede e la sua speranza sul legno della Santissima Croce, dove troviamo l'agnello consumato dal fuoco della Divina Carità, e la acquista una fede così grande che non ci sarà montagna, cioè peccato, montagna di orgoglio, di ignoranza, o di negligenza, che la non possa spostare per la virtù della Santissima Croce. La nostra volontà farà andare la montagna dal vizio alla virtù, dalla negligenza allo zelo, dall'orgoglio alla vera e perfetta umiltà. Contemplando Dio abbassato fino all'uomo, solleveremo la montagna dell'ignoranza e ci umilieremo nella vera e perfetta conoscenza di noi stessi, vedremo che siamo nulla e che facciamo solo opere da nulla. Allora l'anima trova in sé le prove della bontà di Dio e del suo ardente amore, vede che ne è stata amata prima ancora di esser creata. Così l'anima prova che la sua fede è viva e non morta, mostra che ha reso conforme la sua volontà a quella di Dio. Ha ordinato alle montagne di levarsi e le montagne si sono levate, è divenuta potente conformandosi alla santa volontà di Dio. Grazie a tutti.